Stiamo andando a vedere i fuochi artificiali, la festa dei Lumitti. Le fai una macchinata di ombrelli quando vai in vacanza. 20-25 bellissime. Sì, ma io volevo anche quell'arancione. Sì, ma io volevo anche quell'arancione. Il battello elettrico. Infatti non si sente nessuno. Speriamo. Ma saranno belle unici, no? Sì, dai. Però si confondono insieme alle altre. Speriamo. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.